E' arrivato il momento? E' arrivato il momento di parlare di un volume fichissimo, che è questa qua, La via della spada. Eh sì, quindi vi do il benvenuto sul canale, qui siamo su Fumetti e Parole, e oggi, e oggi, chiacchieriamo di un volume della Magic Press, tratto da un romanzo di Thomas Day, la scrittura è di un certo Mariol, mentre i disegni sono del mitico Federico Fergnani, dico mitico perché ragazzi, porca miseria, adesso li vedrete. In questo caso mi fa arrabbiare ancora di più che non ci sia riferimento ai coloristi, porca miseria. Qui, perché dico in questo caso? Perché hanno fatto un lavoro pazzesco, ve li nomino io, li abbiamo qua, anzi non ci sono manco tutti, mannaggia, chissà come mai, perché sono due, non è uno, però qui sono ben, ecco sì, qua sono ben, nei redazionali, ecco, nei redazionali delle prime pagine ci sono i riferimenti, ovviamente, i vari credits. E qui non possiamo non nominare per il primo capitolo la colorazione di Jean-Paul Fernandet e poi il mitico Luca Saponti che ha curato la colorazione del secondo e del terzo capitolo. È un capitolo bello tosto, il primo, ma ho apprezzato tantissimo la colorazione di Saponti. Se non lo conoscete, comunque, Bonelli & Company, Orfani, vi dice qualcosa, qua tra l'altro nella letta della quarta di copertina c'è riferimento proprio a quello che hanno fatto i vari autori, insomma, il disegnatore, lo scrittore, ne sanno, non sono gli ultimi arrivati. Questo è un volume pazzesco perché avete l'occasione di vedere delle cose di questo tipo, vi è chiaro? Cioè, stiamo parlando di questa roba qua. Dalle prime pagine, dalle prime pagine, veramente, mi sono bloccato, ci ho messo un bel po' a leggere questo volume, ma perché mi sono soffermato tantissimo sui disegni, tantissimo. Ho voluto veramente godere vignetta per vignetta e si merita veramente tutto. Qua a Ferniani ha fatto un lavoro strepitoso, strepitoso. Allora, fatemelo dire subito, perché ho comprato questo volume? Le motivazioni sono 2-3. La prima, l'ho visto, insomma, in un video letture di Iaio, mi ha parlato molto bene. La seconda, ho visto i disegni e mi hanno rapito. La terza, mi sono per caso trovato a Luca Comics, di fronte allo stand di Magic Press, c'era un ragazzo, questa cosa ve l'ho già anche raccontata, c'era un ragazzo, insomma, con il cappellino, tutto molto umile, tranquillo, che si siede davanti la pila di questi volumi, si fa, tira fuori le sue penne, il suo portapenne con tutti quanti i pennarelli, le varie cose, e gli dico, ah, ciao, guarda, io ero interessato a questo volume, e lui mi dice, sì, sì, guarda, stai parlando con... Ah, uno dietro, anzi, probabilmente è il referente un po' dello stand. Stai parlando direttamente con quel disegnatore, quindi mi sono bloccato, fermato, ho detto, buon, qui è proprio il segnale divino che mi sta dicendo. Se avevi anche qualche piccolissimo dubbio, ora sei obbligato a comprarlo. Va bene, si fa per scherzare, ovviamente, detto questo, però, sono stato molto contento di aver ricevuto una bella dedica e anche uno sketch, eccolo qua. Abbiamo uno sketch del... per me, del reale protagonista della storia. Non voglio scendere troppo in particolare, se volete andatevi a vedere il video che ha fatto Yayo, se c'ho tempo, se c'ho voglia, ve lo metto lì, nelle schede, così potete recuperarvelo. Qui sostanzialmente si parla di samurai, si parla di un percorso. La via della spada sostanzialmente è una via legata alla crescita personale. Quindi un bambino è affidato da uno stronzo dio della guerra, dio, signore della guerra, perdonatemi, viene affidato appunto da un samurai, un samurai suddice, un po' lercio, un po' trasandato, che ha una sua idea del mondo, del denaro, della politica, delle donne. E quindi, insomma, questo bambino viene affidato a questo samurai perché possa apprendere appunto le leggi della via della spada. Le leggi che sono quelle dei samurai, quindi quelle del rispetto per gli altri, eccetera, eccetera. Ce la farà questo samurai ad accompagnare nella maniera corretta questo ragazzo? Ci saranno degli intoppi nel percorso? Ovviamente sì, altrimenti non potrebbe durare così tanto, poi il romanzo sarebbe una rottura di scatole, ma ci sono dei passaggi veramente incredibili, non solo perché sono disegnati da dio, ma anche perché ci sono dei bei stravolgimenti, battaglie e combattimenti, ma anche degli scenari di questo tipo, un po' apocalittici, non si svacca mai nel supereroismo, ecco, fortunatamente non si va lì. Detto questo, ci sono un po' delle ingenuità, ci sono un po'... Soprattutto negli ultimi capitoli ho visto comprimere un po' il racconto. È possibile, io non ho letto ovviamente il romanzo, è possibile che o il romanzo sia effettivamente così, oppure la trasposizione grafica da romanzo a fumetto stava durando troppo e non era giusto, non era possibile, non era economicamente vantaggioso, non era efficace, non era... non lo so. Mentre nel primo capitolo ci sono i vari passaggi raccontati anche con la maniera molto lenta, francese, guardate che roba! vi cada la mascella, ragazzi, vi cada la mascella. Tuono al discorso negli altri due capitoli, ma soprattutto nell'ultimo, le cose vengono raccontate molto velocemente, troppo velocemente. Quindi questo non mi è piaciuto, perché qualche piccolo passaggio si è perso. Faccio riferimento ad una roba incredibile che la sensualità che è rappresentata dalle donne del volume, ce ne sono tantissime, viene raccontata un po' la prostituzione, ma soprattutto il... come si chiama? Il lavoro, ecco, delle geisce giapponesi, e un po'... tanto non mi monetizzeranno mai, chi se ne frega, ve lo faccio vedere... voilà, così, fantastico. Diciamo che l'approccio che nel romanzo, penso, ma sicuramente nel fumetto, c'è in merito al rapporto uomo-donna è assolutamente esplicito, l'avete visto, ma poi disegnato da Dio, ma anche con un certo rispetto, o meglio, con delle regole. C'è quasi un decalogo, c'è quasi un approccio a livelli, e quando si parla di livelli, si parla, ad esempio, e qui faccio riferimento ad una struttura pagoda, che è quella là in fondo, insomma, che vedete là in fondo disegnata, in questa pagoda ci sono proprio tantissime donne che si prostituiscono, che vengono pagate, con delle monete di colore diverso, con dei valori differenti, a seconda del livello, del piano che abitano. e non tutti possono scegliere, perché sono pieni di soldi, di andare al primo, all'ultimo, in maniera indiscriminata. Sono proprio loro, con delle regole molto, molto interessanti, a decidere se il cliente può accedere a livelli superiori. non vedo l'ora di parlare di questo volume, e di tantissimi aspetti del suddetto, con Iaio e Vaita. Quindi già qui sto facendo proprio una richiesta ufficiale, non dal vivo, però comunque, se mai vedranno questo video, altrimenti lo scrivo tramite Whatsapp. Già avevamo accennato la possibilità di discutere un po' insieme, ecco, dopo averlo letto, e apprezzato, è arrivato il momento di parlarne. Quindi io spero che nel 2022 si riesca a trovare un momento nel quale poter confrontare le nostre idee in merito a tutto quello che riguarda la via della spada. E voi? L'avete letto? L'avete comprato? Vi ho incurusito? I disegni vi hanno fatto impazzire? Spero assolutamente di sì. Fatemi sapere cosa ne pensate, non vedo veramente l'ora di leggervi nei comment. vi lascio con così altre due pagine che fanno impazzire. E quindi vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!